E quella che cos'è Kelly? Una carota! Bravissima! Chi sarà mai? Ehi, permesso! Vieni, che ci fai qui? Ah, ti ho portato una cosina per Kelly! Ragazzi, venite dentro! Hai sentito? Hanno una cosina per te! Oh, io sa! Aspettate che vi aiuto! Che cos'è? È la nostra cucina al giocattolo! A noi non serve più! Esatto! Sto facendo un po' di pulizia in casa e hanno scartato questa cucinetta! Abbiamo pensato di portarla a Kelly! Wow, grazie! Ti piace Kelly? Sì! Bene, allora assembliamola! Ora ti facciamo vedere! Questo è il fornello, il lavello e il frigo! Wow! Ah, grazie! Sei stata molto gentile! Figurati! Ehi, Kelly, cosa vuoi preparare nella nuova cucina? Pizza! Buona la pizza! Ehi, zia, mi è venuta un'idea! Lasciami pure qui, i gemelli! E mentre Kelly preparerà una pizza con la pasta modellabile, noi la prepareremo veramente! Così ce ne ranno tutti insieme! Oh, per me va benissimo! Che ne dite voi due? Volete preparare la pizza con Kate? Sì! Bene, allora verrò a prenderli dopo cena! Allora, vediamo un po'! Pizza, pizza! Allora, prendiamo la farina, l'olio, il sale, l'acqua e il lievito! Aggiungiamo l'acqua alla farina! Ecco qui! Vai Kevin, mescola un po'! Ok! Bravissimo! Anch'io voglio fare qualcosa! Certo, Zoe! Aggiungi il sale e il lievito! Sì! Che dura! Che dura! Brava, Kelly! Anche tu stai lavorando! Ora mescoliamo un po'! E poi cominciamo a lavorare con le mani! Wow, bravissimi! Avete ottenuto un bel impasto morbido! È divertente! Ora dovete formare cinque palline! Cinque? Sì, così usciranno cinque pizze! Una per me, una per Kevin, una per Zoe, una per Kelly e una per Jess! Ok! Ehi Kelly, come sei messa con la tua preparazione? Pomodorini! Bella pizza mia! Ma sei bravissima! Ecco fatto! Molto bene! Ora però dobbiamo metterli a lievitare! E li copriamo con un canovaccio! Ecco qui! Dovremmo aspettare almeno un paio d'ore! Cosa facciamo finché aspettiamo? Beh, potreste aiutare Emma nella preparazione delle sue pizze! Ok! Wow Kelly, sei bravissima! Ora la mettiamo in un piattino e poi sul forno a cuocere! Guarda, così! Sì! Ora cuoce! Esatto Kelly, brava! Ehi, facciamo un gioco! Io vi chiamo e vi ordino una pizza! Sììì! Pronto! Sono la signorina Kate! Vorrei ordinare una margherita! Hai sentito Kelly? Prepara una margherita! Ecco pronta margherita! Kelly, mettila qui! Caspita, che organizzazione! Ecco pizza! Bene, mettimela qui che la porto via! Grazie Kelly! E ora la pattezza! Ecco la sua pizza, Kate! Oh, grazie mille! Wow! È fantastica! Brava Kelly! È ora di preparare le nostre! Bravissimi! Lavoratele per bene! Che poi vi do una mano io! Ora aggiungiamo la salsa di pomodoro! Ecco! E ora la mozzarella! E ora cosa ci volete sopra? Io e Wuster! Anch'io! Io e margherita! Molto bene! Ecco le due Wuster e le margherite! È ora di infornare! Eccole qui! Pronte nel forno! Oh, che fame! Ed ora impostiamo la temperatura! Perfetto! Arricchiamo e poi guardiamoci qualche cartone animato! E ma c'è un odore strano! Oh no! Le pizze! Oh no! Si sono sbrucciacchiate tutte! Uffa! Sono a casa! Prima al telefono mi hai detto che stavate preparando la pizza fatta in casa! Non vedo l'ora di assaggiarla! Eh sì Becco! La pizza c'è ma... È quella che abbiamo ordinato da Luigi! Perché noi l'abbiamo bruciata! Kate! Ah! C'è una staredata! Grazie per la visione!